Le sue favole mi fanno schifo. E infatti questo era un concetto che mi aveva già espresso in passato. Però... Però? Mi mandi mio figlio. L'altro giorno ne ha lette per caso quel decerebrato di mio figlio. Au! Bella! Bella. Lui le trova strepitose. Da paura? Quando sbarcano Corcanotta a Lampedusa spacca. Sei proprio greveci. Le sue favole stanno facendo il giro della scuola. Quindi ho pensato di pubblicarle nella nostra collana teenager. Veramente? Condivido il suo stupore. Comunque mi metto subito a cercare un buon illustratore e tra un paio di mesi andiamo in stampa. Bella papà!